Ciao Antonio, grazie per aver scelto Audio Elite per il car tablet per la tua Porsche Macan Ecco qui che cosa ti offriamo, ovviamente ti offriamo il meglio che c'è in commercio Guarda che home, avrai anche altre home personalizzabili Ovviamente la radio adesso non è collegata, potrai memorizzare tutte le stazioni Hai un DSP, processore sonoro Torniamo indietro, andiamo nel mondo delle app Apple CarPlay, Android Auto, tutto in Wi-Fi, senza connessione fili YouTube ti chiede l'aggiornamento, una volta che metterai l'account potrai aggiornare il Play Store Visualizzazione video, Full HD Maps, siamo pronti a navigare su Maps Ovviamente poi a impostazioni veicolo a secondo degli optional della tua Porsche Macan Potrai configurare tutte queste cose Questa è l'app Temi che ti regaliamo noi per aver scelto Audio Elite E ovviamente ecco qui il prodotto Io ti ringrazio, oggi spediamo e ti arriverà la trascia vita tramite SMS Grazie a tutti